Barbara, vieni pronta? Buonasera Eleonora. Microfono Eleonora. Come stai Eleonora? Magnificamente bene. Non sei venuta da sola però questa sera? Assolutamente no, sono venuta accompagnata da due eccellenti colleghi. Del tuo network? Del mio network, consulenti aziendali d'Italia. Eccoli qua con me, è del Carlo e Luca Pulvirenti. Tutti e due, buonasera, 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 benvenuti. Facciamo un'inquadratura proprio larga così vi vedono, grazie regia. Devo ringraziare la regia che stasera sta veramente superando se stessa per il numero di persone. Benvenuti, buonasera. Fate parte che vuoi del network, presentali tu, li hai già presentati? Sì, siamo un network a livello nazionale di consulenti che comprende sia avvocati, varie figure professionali, avvocati, commercialisti, consulenti di impresa, consulenti finanziari che vuole proporre in sinergia un servizio di assistenza e di qualificata professionalità e competenza nelle singole aree necessarie per poter sviluppare e governare, gestire il business con successo. Salutiamo il vostro referente massimo del network che è il fondatore. Il fondatore, il nostro leader è il professor Simone Brancozzi. Oh, meno male, se no ti sgridavo. No, certamente sì perché è il fondatore e il nostro leader che ci forma in continuazione e ci sprona a migliorarci e a evolverci. E tanta formazione. Tanta formazione è direi l'elemento fondamentale per poter oggi come consulenti dare il massimo di assistenza al cliente. Tornarò da te, ma devo fermarti un attimo perché qui sui social, io pensavo di essere io l'idolo di questa trasmissione, Paolo, la Giusi, Barbara, no, questa sera l'idolo di questa trasmissione, adesso te lo dico perché qui una certa esmeralda trovo, dice la mia coach è strepitosa Eleonora Buffon. Ecco qua. Eleonora qui c'è una serie, non lo so perché è diventata tu l'oggetto del desiderio del pubblico. Mi fa piacere, mi fa... La conosci questa esmeralda? Beh, certamente sì, è una mia carissima collega della Sardegna che salutiamo e che io chiamo essere la nostra regina del network. Eccoci qua, bella questa cosa qua. Sì, sì, perché proprio... Quanti siete nel network? Ma tra il new entry o magari qualcuno che abbandona siamo intorno ai 110-120 persone professionisti e stiamo coprendo un po' tutto il territorio nazionale. Che verrò a trovare a giugno magari un evento? Ma certamente sì. Che riconoscerò tutti. Uno, due o tre che hai qui, alto livello va bene, ma voglio vedere anche gli altri. Ma certamente, ma guarda sui social anche i miei colleghi ti seguono. Davvero? Certamente sì e ti apprezzano, sia nel gruppo commercialisti Treviso, commercialisti Venezia e senz'altro il nostro gruppo chiuso. La mia ruota di favore non ci sta tutta questa sera, non ci può fare. Sei, sei, ormai sei proprio, direi, noto in tutta Italia. Il commercialista cosa può fare per l'inventore? Allora, il ruolo del commercialista è senz'altro determinante, direi quasi fondamentale perché dall'idea, una volta che si è realizzata in termini pratici, bisogna portarla, concretizzarla in termini di progetto di business. Attenzione, non parlo di impresa, progetto di business. Generalmente l'approccio col commercialista è, soprattutto per un inventore, per una start-up, qualora decida di approcciarsi in prima persona nel mondo dell'imprenditorialità, è quella di chiedere la stesura di un business plan per poter poi accedere al collega che ho qui al mio fianco ai contributi per poter finanziare la propria impresa. Quindi deve essere in sinergia la finanza agevolata e il commercialista è il primo passo. Beh, senz'altro. Soprattutto, e lei dottore, ne è maestro, ne spiegarmi i rapporti che ci sono attualmente tra imprenditore e banca. Quindi l'accesso alla finanza agevolata è quasi una via d'obbligo, direi. E benzina per il progetto. Esatto. Però io come dottore commercialista, ed è un approccio che condivido con i miei colleghi qui presenti in studio, prima di arrivare alla formulazione di un business plan, che è solo la mappa di navigazione... Prego. No, no, sto parlando con la... Che è solo una mappa di navigazione che poi consente di circunnavigare l'oceano del business. Come business coach sono molto sensibile, come, e mi richiamo all'intervento che ha fatto la... Giusi. Giusi, nell'esplorare, nel comprendere il mio start-up che ho di fronte. E quindi porre una serie di domande cognitive, conoscitive, per poter meglio indirezzare poi nella fase della realizzazione dell'impresa il mio start-up. Domande fondamentali, senza dubbio, sono capire e formulare bene l'idea imprenditoriale. Molto spesso, preso dall'emozione, dal cuore della propria invenzione, innamorato della propria invenzione, e volendo concretizzarla in un progetto di business, non siano ben chiare le idee della propria idea, non ha ben formulato la propria idea imprenditoriale. Tant'è che io le invito a dire, formulano in 15 parole, cosa tu vuoi vendere. Cosa vuoi... che utilizzo può avere il tuo prodotto o il tuo servizio. La seconda domanda che ritengo essenziale è, senz'altro, quella di focalizzarsi bene, di identificare bene qual è il client core business. A chi ci rivolgiamo? Io prima la seguivo, mentre lei... Anche perché, ti fermo un attimo... Prego. Eleonora, come dicevamo prima, l'importante per le start-up, per gli inventori, eccetera, l'importante è sì il denaro, è sì la finanza agevolata. Ma prima devo trovare un mercato, cioè i clienti. Senza clienti non esistono professionisti pagati, non esiste avvocato, non esiste PR, non esiste niente. Questo benedetto cliente, bisogna trovare la traiettoria, identificare i clienti. A chi vendo questa cosa qua? Eleonora, torniamo da te. Un saluto, l'ultimo non l'ho tenuta perché è la star di questa sera, se no i suoi social mi si rivoltano contro sui social. Salutiamo Eleonora. I tuoi riferimenti, Eleonora, è del tuo network, che fa gli ultimi saluti. Allora, il mio mail è ebuffonchiocciolalibero.it, il cellulare è 338-860-4442, e anche io sono presente nei social, quindi cercate in Google Eleonora. Il tuo territorio, dove Pascoli, i tuoi clienti? Beh, sul Trevigiano, provincia di Treviso, e in modo particolare io sono di Valdobbiadene. Bruttissimo posto Valdobbiadene. Ah, non dire così, non dire così. Bruttissimo, bruttissimo. A parte gli scherzi, però il tuo network arriva dappertutto. Certo, esatto. Friuli, vedo dappertutto, Sardegna. www.consulentiaziendali.it.it. www.consulentiaziendali.it.it.it. www.consulentiaziendali.it.it.it.it. www.consulentiaziendali.it.it.it. Grazie a tutti.